Franco Ferrari e poi Nicoletta Pilotti eh me lo sono scritto eh ma non ho verificato il tempo spero di stare eh anche userò il termine narrazione eh che adesso Paolo Ferrero ha richiamato diverse volte anche se fosse in modo un po' eh diverso. Eh io ho cercato un po' di articoli con le mie possibilità evidentemente di eh porre questa questione. Credo che oggi abbiamo molti interventi, si sono posti il problema alla sinistra, la crisi radicale, della sinistra radicale non solo in Europa ma anche a livello mondiale per certi versi. Eh credo che ci sia fra le tante cose ovviamente che devono essere fatte ci sia un problema di provare andare a vedere a ridefinire quelli che sono alcuni fondamenti. Eh ora eh come sappiamo c'è stato una fase sul parto da lontano o da veloce c'è stata una fase in cui eh una corrente ideologica soprattutto francese eh ha messo in discussione l'esistenza stessa delle grandi narrazioni. Detto in termini più moderni sarebbe lo spiegone di tutti gli spiegoni la grande narrazioni. Ehm ora però se noi facciamo un bilancio a un po' di decenni di distanza quello che vediamo è che in realtà siamo pieni di grandi narrazioni che riescono a imporsi nel dibattito di avere consenso. Abbiamo visto il fondamentalismo religioso non solo quello islamista perché c'è quello eh israeliano c'è quell'indu c'è quello americano degli degli evangelici eh in realtà l'unica vera grande narrazione che è entrata in crisi e che oggi manca è probabilmente la nostra quella del diciamo del movimento operaio socialista inteso nella sua eh più larga accezione e io credo che qui ci sia eh appunto un problema e eh solo che questa grande narrazione eh a mio parere deve essere definita da alcune cose intanzitutto un contenuto allora a mio parere una grande narrazione quella che noi dobbiamo insegnare di esprimere eh deve avere alcune caratteristiche intanto rispondere a tre domande fondamentali che cosa con chi e come e e poi su questo ci torno e ovviamente eh non può essere come dire una costruzione accademica anche se ovviamente ha bisogno di teoria e quindi anche di 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 supporto di 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 analisi eccetera ma deve essere qualcosa che riesce a ehm connettersi ed arrivare alle persone comuni e faccio per essere un po' più concreto riprendo alcune tesi di Bernie Sanders noi abbiamo fatto la recensione fatto Alessandro Scassillato è una bella recensione sul sito sull'ultimo libro di Sanders abbiamo fatto anche un colloquio un dialogo con Bertinotti su questo ora a me sembra che Bernie Sanders dia esattamente in modo comprensibile risposta a tutte e tre le domande il che cosa lui indica il socialismo eh e lo nomina e quindi ritiene che vada nominato il che cosa il fine ehm è un'idea di socialismo che può essere messa in discussione diciamo è molto un'idealizzazione del del modello scandinavo della democrazia del vecchio conflitto capitale lavoro che negli Stati Uniti non ha mai trovato radicamento però lì c'è un'indicazione il con chi eh indica in modo mi sembra molto chiaro la classe lavoratrice dove la classe lavoratrice è intesa nella sua eh definizione più vasta non diciamo della eh della classe operaia della grande industria quella che nel novecento ha costituito il cuore del del movimento operaio ma che in un qualche modo ritorna ad una originaria definizione marziana per cui eh il proletariato contro il capitale si definiva sono tutti coloro che per vivere devono vendere la propria forza lavoro e a prescindere poi se questo riente nel genere intellect cioè nel lavoro diciamo che produce bene materiali o bene materiali e poi da una risposta anche al come cioè a quale strategia politica concretamente anche qui si può discutere perché lui indica sostanzialmente una trasformazione del partito democratico americano che non che è un partito eh in cui il termine partito indica una realtà diversa da quella dei partiti europei eh il partito democratico americano attraverso la costruzione di un movimento dal basso che ne modifichi le caratteristiche e i connotati ora questo è un esempio a mio parere di eh risposta alle tre domande che costituiscono eh una possibile grande narrazione comprensibili però dal nostro punto di vista credo anche abbastanza discutibile discusse ad esempio nel dibattito della sinistra americana qualcuno ha contestato il fatto dicendo ma se noi siamo d'accordo che c'è da fare la sanità pubblica c'è da fare il salario minimo c'è da fare tutte queste cose eh perché dobbiamo definire il socialismo che sostanzialmente serve solo a spaventare i nostri possibili sostenitori altri correnti le richiamo perché questi sono elementi poi se si va a vedere fanno parte di un dibattito eh culturale politico culturale che eh che c'è che è verificabile ad esempio nella corrente post operista che influenza in Italia c'è una c'è stata una contrapposizione c'è una contrapposizione fra l'idea del socialismo e l'idea del comunismo perché il socialismo è il principio che si basa sul riconoscimento del lavoro come eh elemento fondamentale di identità e di partecipazione alla società ecco io credo che queste queste questioni debbano far parte eh di un dibattito molto più esplicito molto più chiaro e molto più approfondito e poi tradursi se ci sono le condizioni anche in eh capacità nella costruzione di quelle che Gramsci chiamava l'idea forza però c'è un altro passaggio eh perché evidentemente una continua a chiamare utilizzare questa definizione della grande narrazione oltre ad un contenuto deve avere come dire deve definire i modi della sua costituzione per non essere semplicemente una costruzione arbitraria perché ovviamente ognuno poi potrebbe avere la sua e non è attraverso il solo dibattito è attraverso anche la pratica politica che è possibile affermarne una rispetto o un insieme rispetto ad altre e qui secondo me c'è un altro passaggio richiamo una citazione eh eh notissima di Marx perché mi serve poi ad aggiungere questo elemento e nel diciotto Brumaier Marx scrive gli uomini oggi diremmo gli uomini e le donne evidentemente fanno la propria storia ma non la fanno in modo arbitrario in circostanze scelte da loro stessi bensì nelle circostanze che si trovano immediatamente davanti a sé determinati dai fatti e dalla tradizione dove io per fatti intenderei come dire la struttura socio-economica e la tradizione l'insieme delle ideologie del senso comune dell'immaginario ora questa connessione fra volontà soggettiva e condizioni oggettive secondo me è eh e capacità di cogliere nelle diverse fasi storiche come entrano in relazione l'una con le altre è un elemento che eh mi parere del tutto irrinunciabile rispetto invece a teorie che pure siccome si riscontrano nel dibattito della sinistra non solo in Italia ma anche eh a volte neanche nel dibattito ma nella eh realizzazione pratica delle scelte politiche eh ci sono a mio parere diciamo due strade adesso detta molto grosso veramente alternative e una è quella diciamo eh dell'ideale interregolativo cioè un insieme diciamo un insieme di valori eh di principi anche morali eh rispetto ai quali ci si rifà e che guidano l'azione quotidiana in un contesto che che è quello che che poi eh si evolve anche indipendentemente e il questo eh approccio a mio parere determina molto spesso una eh critica di tipo morale al capitalismo cioè il capitalismo è negativo produce tutti gli effetti negativi che sappiamo e quindi dobbiamo dobbiamo eh sostituirlo che però rischia di essere alla fine eh è un elemento di buona volontà ma non di costruzione di una reale alternativa. L'altra strada è un po' adesso dico così è quella della volontà di potenza cioè del dell'idea che basti i che le condizioni oggettive sono sempre date la volontà è la volontà soggettiva che va eh costruita. Ecco io credo che queste due strade che pure sono verificabili cioè sono esistenti nel dibattito eh se si scava un po' più a fondo sono strade che non sono sufficientemente produttive per alcuni effetti ci hanno messo eh in un piccolo cieco. Quindi necessità della grande narrazione, individuazione dei contenuti della grande narrazione e costruzione del modo di essere di come si eh collega volontà soggettiva, condizioni oggettive sono elementi fondamentali. Dopodiché e finisco eh una grande narrazione non è solo una narrazione cioè non può essere intesa perché anche questo è un elemento che c'è eh cito il il i teorici del populismo di sinistra e e anche tutto il filone post eh strutturalista eccetera eh dice la realtà è fatta di parole, di narrazioni, discorsi e quindi si tratta di contrapporre un discorso a un altro discorso in cui nel caso i popolisti di sinistra l'elemento eh determinante è l'individuazione del nemico cioè il popolo che è soggetto dell'attività dell'azione politica si riconosce dal fatto di essere l'antifinisco e di essere è perché c'è un antipopolo che puoi essere popolo è una casta o qualsiasi cosa si può individuare con un minuto. Ecco e chiudo. A me pare che che questi elementi eh siano parte di un dibattito che altrimenti rischia di restare troppo schiacciato sugli elementi che pure vanno discursi ovviamente il contingente eh l'attualità politica e le e gli eventi volta per volta e secondo me però senza la capacità di ricostruire questa eh visione difficilmente usciamo dalla nostra crisi. grazie Franco grazie a tutti. grazie a tutti.